Siamo con Giorgia Gandossi, neo eletta, neo riconfermata, quindi possiamo dire consigliera provinciale. Innanzitutto la soddisfazione per un traguardo importante, una buona risposta del popolo amministrativo della Valseriana. Assolutamente, una grande soddisfazione personale, una grande soddisfazione per la nostra lista democratici e civici per la Bergamasca. Insomma la mia avventura prosegue, prosegue per altri due anni. È una soddisfazione, mi permetto di utilizzare anche questo momento per ringraziare tutti gli amministratori della Valseriana, donne e uomini che mi hanno votata, hanno deciso di ridarmi ancora la loro fiducia. Voglio dare un ringraziamento anche ai giovani democratici, comunque che in tutta il territorio bergamasco ha deciso appunto di appoggiarmi. Quindi questa riconferma è arrivata a un importante risultato, c'è quindi già una squadra, manca ancora di sapere quale sarà la sua delega, quindi un'analisi di questo voto. Assolutamente, la nostra lista democratici e civici per la Bergamasca ha ottenuto veramente un risultato superlativo. Siamo riusciti ad ottenere un settimo consigliere, infatti siamo la maggioranza, la forza politica con il maggior numero di consiglieri. Gli altri, diciamo le altre liste, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, hanno qualcuno ridimensionato, qualcuno ha aumentato il proprio peso. Sta ancora adesso a vedere quale sarà effettivamente il gruppo del consiglio provinciale, quale sarà la maggioranza. Da parte mia posso dire che mi toccherà e avrò l'onere e l'onore di rappresentare la Val Seriana, perché nessuna delle altre forze politiche è riuscito a portare un consigliere in provincia, quindi sono molto contenta e diciamo sento sulle spalle questo importante impegno di rappresentare il mio territorio. Per quanto riguarda poi le deleghe, non si sa ancora nulla, prima avevo sport e politiche giovanili, ora si vedrà in queste settimane, il prossimo consiglio sarà il 22 di ottobre, quindi a breve sapremo. Quel che so è che lotterò per avere una delega importante per la nostra valle, vista l'importanza, vista il numero di abitanti e viste gli impegni che attendono la Val Seriana nei prossimi anni. Questa avventura, la prima, come si è conclusa, nel senso che le ha permesso di conoscere tantissime in realtà in tutte le manifestazioni sportive in cui era presente e in cui è venuta a conoscenza? Assolutamente, lo sport non è una competenza prettamente della provincia, ma come provincia di Bergamo siamo sempre stati molto attenti a questa tematica, anche con tutto il comparto della cittadella dello sport abbiamo dimostrato di volerci impegnare, di voler investire nello sport. Questi due anni sono stati anni pieni di sport, dalle tappe del Giro d'Italia, adesso avremo i mondiali a schilpario. Diciamo che siamo un territorio attrattivo per lo sport, siamo un territorio vivo, siamo anche la prima provincia a livello di sport praticato, quindi diciamo che reputo questa una delega piccola ma comunque molto importante sul territorio. Concludiamo un attimo con una nota a margine che è una nota importante, un'analisi vera di questo voto è che la valle seriana è presente solo con lei e nessun altro, quindi è un peccato che questa valle non sia rappresentata dove conta. Assolutamente, diciamo che le altre forze politiche si sono concentrate altrove e hanno, posso dire, dimenticato questa valle, quindi io spero di svolgere il mio ruolo al massimo per il mio territorio e vorrei anche sottolineare, nota a margine ma non troppo a margine, il fatto che sia io sia l'unica donna seduta in consiglio provinciale. Ecco, questo spiace perché essendo comunque un'elezione di secondo livello è un'elezione in cui si può arrivare ad avere delle donne e non deve essere solo un'analisi fatta dopo ma deve essere fatta un'analisi prima quando si scelgono le candidature su cui puntare, e quindi farò del mio meglio per difendere anche il genere femminile di tutte le amministratrici che sono molti, sono valide, sono competenti che ci sono nella nostra provincia.